no così è normale gioia senza fare missioni per uccidere gli altri grazie a tutti 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 eh no grazie a tutti 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 oh grazie a tutti grazie a tutti tu tu ce ne sta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ho portato grazie a tutti 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 marco grazie a tutti grazie a tutti no grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti no grazie a tutti 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 l'ha fatto il 21 e quell'altro la e basta che mi è capitato a volte di trovare eh beh sì però a volte li riesci a individuare perché senti il rumore se li spari in tempo li riesci a fare però se ti prendono da dietro nelle spalle che vuole usano prima il drone da ricognizione poi quello la botte questo qua drone bomba fanno 1 e 1 in the video e ti mandano quello il fucile ce l'ho e la mitraglietta però è meglio sempre il fatto dell'antina qua a fuori si qua non tengo già manco il fucile se me sbaglio ce ne stanno 3 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 ce ne stanno vado qui riesco a prendere se me ne riesco a beccato perché non ho il fucile ad at se me già l'avevo beccato qui adesso ci vengono a prendere ci conviene che si prepariamo meglio che ci prepariamo meglio che ce ne andiamo qua e li prendiamo di sorpresa se ce la facciamo a prenderli di sorpresa quello là? due ce ne stanno se però l'ha sparato uno allora vado a prenderlo non ti preoccupare con quello si si no a me sto piano piano stanno andando non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare che cosa la ha?? eh ma gli altri non li racconta che cosa la ho un'altra no c'è stato un altro o qua?? c'è stato un altro o qua?? c'è stato un altro c'è stato un altro o qua?? qui c'è un'arma personalizzata no ma lontano non c'è niente questo non c'è quasi niente poca roba hai capito tra qua no sì sì è quello se n'è andato perfetto super ah l'hai eh l'ho visto eh sta cecchino bella che non ho neanche il fucile da cecchino in giorni si si montiamo qua e prendiamola eccolo eccolo sta qua ho visto perché ho visto il bagliore del cecchino va qua eccolo ho beccato qui c'è un'arma personalizzata va beh non mi piace sta sono colpi di medio caldo qui c'è un'arma personalizzata si prendi no non c'è niente c'aveva solo il fucile da cecchino che l'avevo preso ah questo che sta preso poi c'è stato un'altra però stava un'altra però non lo riesco a vedere questa va vede questo cecchino qua chi è come sta a sparare no non ci sta nessuno qua ma apposta si si ora prendiamo qua la roccaforte prendiamo un po' qua qua cosa fa ho trovato la come si chiama la corazza tre piastre cassa di protezione cassa di protezione cassa di protezione neanche le p绚le ci hanno lasciato e cade cassa Xtra piscina neanche le piscole ci hanno lasciato non l'ho visto l'ho visto aspetta vai aspetta ah non ti preoccupai piano piano affermativo ignorare sono 3 sta un altro di qua pure invece ma che cazzo non l'ho visto lo sto curando qua o uno il nostro qua non l'ho visto 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 no ma beccato non so fari c'è un altro volo stanno è un oro che cavir sopra stanno sopra li sento sopra sopra a qua no questi sono i bot però a me mi sembra sopra sto andando qua sopra spara andando se stanno qua su si si io non ce l'ho più io pure avevo la mina ma non ce l'ho non trovo sto prendendo pure la mina qua me la metto pure io qua si ma chi non ti cavolo di bot sono i bot che non manesca ti fanno perdere tante di quelle di queste cose ti fanno perdere mi basta qualcuno qua no si si sto controllando no non c'è nessuno qua non vedo nessuno e non vedo nessuno non vedo non vedo proprio nessuno qua da questa parte non c'è nessuno lo controllo qua sopra dobbiamo controllare meglio da qua vediamo un po' qua niente qua no nessun nemico qua no no non c'è proprio nessuno è sicuro che non stanno che non stanno per qua dobbiamo far capire tutto qua qua ce l'ho presa uno di qualità eh lo so questo lo usavo si ma sta uno secondo me qua qua vedo vedo ho fatto volare apposta ho volato il bot non vedo nessuno comunque come nemico un operatore niente secondo me stanno dall'altra parte no dico dove sta la nave dall'altra parte dove sta quella nave capito ma eccolo qua è pure un elicotter l'elicotter che deve rompere sempre scadano mamma mia non lo sopporto no no non lo sopporto ma l'obiettore le G.E.V. la fine colpe ora ecco l'è andato è andato è andato è andato a prendere quella cosa cosa dell'elicottero da qua andate dove sta il cosolo dell'elicottero vabbè ora ti seguo da qua così vado per sopra il ponte perché se sta qualche nemico ve lo dico è meglio che uno controlla e uno va là eh già ce l'ho il zanno grande sta a posto allora qua c'ho le c'ho le corazze se vi servono ecco l'è qua ecco l'è qua qui abbiamo una cassa di protezioni sta qua sta qua sta qua eh non sto facendo segnal sono qua secondo me se andiamo alla zona di estrazione facciamo la miglia cosa oh perché è meglio hai capito così ci salvia una partita e siamo qui si oh questo andando piano piano vi sto controllando qui ci sono sono bot a posto hanno fatto saltare tutte e due bot andate con calma qua e attivo nei paraggi ve lo dici però qua già l'hanno fatto ma qua no oh no è un lingotto d'oro non c'è nessuno allora facciamo qua non c'è nessuno nel posto qua end no no era un elicottero quello la nemico quello la dei bot si 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 sto vedendo con il cecchino andate a posto e qua vedo solo bot mamma mia quanto i bot qua troppi bot qua non c'è nessuno mi pare mai non c'è nessuno ovic mi pare non c'è non perché sempre si una sola si ce l'abbiamo fatta c'è un po' è un po' l'ampello c'è un po' un po' si guardiamo un attimo ma tutti ci sei per una partita dopo un'altra partita dopo che mostracco dopo dopo venga va bene ci stai dopo allora facciamo la partita dopo va bene mostracco un poco così e poi vabbè sì sì ciao a dopo ciao 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 ciao